Obiettivo conquistato, primo posto e titolo di campione d'inverno. Con la vittoria di ieri sera per 3-0 in trasferta a Padova, i campioni d'Italia dell'ITAS Trentino si confermano squadra da battere al giro di boa del torneo, chiudendo il girone d'andata in testa con 28 punti, a sole tre lunghezze dall'inseguitrice Perugia. Alla Chioene Arena, Podrashanin e compagni hanno offerto una prova di sostanza e carattere, anche se meno efficaci del solito, al servizio e in attacco. Dopo un avvio difficile, 0-4 per i patavini, grazie ad un buon approccio a muro in fase di contraattacco, Trento riesce a riagganciare gli avversari, un testa a testa fino al finale di parziale, controllato dai campioni d'Italia che chiudono i conti con Podrashanin sul 25-20. Più equilibrato il secondo set, complicatosi per i trentini nella parte finale, il parziale si chiude dopo una lunga serie di cambio palla ai vantaggi grazie all'attacco di Lavia che al decimo match point chiude la frazione sul 34-32. Il terzo set vede invece i campioni d'Italia, forti del doppio vantaggio, giocare sulle ali dell'entusiasmo con Rikliczki a trovare regolarità e giustamente votato come MVP del match. Grazie all'opposto giallo-blu e agli attacchi di Micheletto, il terzo e ultimo set si chiude sul 25-20. Non abbiamo sottolineato l'avversario perché sapevamo che loro qua a casa loro giocano comunque di livello, anche oggi hanno giocato bene nonostante il risultato 3-0, ovviamente il secondo set era decisivo i vantaggi che abbiamo vinto. Mi sembra che fino adesso abbiamo presentato un buon palavolo, più o meno ci siamo meritati credo questi punti che abbiamo presi e poi il nostro buon posto. Comunque la strada è molto lunga, mi sembra che c'è ancora tanto a aggiustare e sempre guardare avanti, tanto lavoro ancora a fare. Ci sta, ripeto, un calo di tensione dato un po' dal fatto che abbiamo tirato fortissimo in una serie di partite molto molto importanti, però dobbiamo accendere una piccola spia, un alert, un piccolo momento di attenzione in più perché quello che abbiamo fatto fino adesso credo che meriti di essere preservato e credo che non sia un punto di arrivo ma che sia un momento per continuare a spingere e costruire. Solo una sconfitta in 11 partite disputate per la squadra di Fabio Soli in questa edizione del torneo. L'ITAS tornerà in campo il prossimo 30 dicembre sul parquet del T quotidiano Arena nella prima giornata di ritorno contro la Top Volley Latina, ma ancora più atteso il match del prossimo 3 gennaio, sempre tra le muramiche, quando Micheletto e compagni se la vedranno con Verona, ottava forza del campionato, nella gara secca che garantirà alla vincente l'accesso alle Final Four di Coppa Italia di Bologna del 27 e 28 gennaio.